Ha visto che una bandana mi sembra... No, no, è un'adleta, vieni, vieni. No, questa è una donna. Scusa, è una donna. No, da lontano. Piano piano qua. Vieni, vieni. Signorina, qua, qua, qua. Ecco qui. Che c'è qualcun altro dietro? Hai fatto la gara, no? Ho fatto il percorso, però non ho fatto la gara. Hai fatto quello corto, quello basso? No, no, ho fatto... Hai fatto proprio tutto il percorso. Ma c'è qualcun altro dietro a te? Eh, penso di sì. Eh, sette persone mancano. Sette persone. E tu sei partita prima? Sì, sì, sì. Prima della gara. Ma dove si passa? Qua, qua, qua. Scendi piano piano. Tu sei persa sopra? Un chilometro e mezzo. No, no, no. Bello sopra. Ma c'era qualcuno a far vicendere? Scusa un attimo, signorina. Mira un po' queste crotte qui, quanto sono belle. Più sotto, più sotto, c'è l'occasione di mirarle. C'è pure altra gente, no? Sì, 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 costeggia a sinistra. Eh. Scendi piano piano, poi. L'altro percorso è agevole. C'è altra gente, vai sicura? O no? Non, 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 non. pota